Le imprese edili attendevano da tempo la misura in questione che finalmente dopo lunghi approfondimenti giuridici la giunta provinciale di Bolzano ha varato. In sostanza Palazzo Wittmann anticiperà il bonus fiscale sulle ristrutturazioni edili che lo Stato eroga e che però spalma su un arco temporale di 10 anni. Analoga misura era stata prevista in origine anche per il bonus relativo a interventi di recupero energetico senza però poi arrivare ad una concretizzazione della stessa. Come noto le agevolazioni fiscali garantite da Roma consistono in un rimborso decennale sotto forma di detrazione dalla dichiarazione dei redditi pari al 50% dei costi sostenuti con un tetto di spesa di 96.000 euro. Le medesime verranno anticipate dalla provincia di Bolzano in un'unica soluzione tramite la concessione di un mutuo senza interessi. Il beneficiario avrà l'obbligo di restituire il tutto nel giro di 10 anni tramite altrettante rate la prima delle quali dovrà essere versata il 30 settembre dell'anno successivo alla sottoscrizione del mutuo. Il vantaggio è naturalmente che si ha a disposizione questi fondi e si inizia a restituirli a tasso zero dall'anno dopo. Naturalmente nel momento in cui si fa ovviamente si firma un contratto di mutuo sempre dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi. È previsto un 6% naturalmente dei controlli ed è previsto che questo provvedimento sia limitato alla prima casa, quindi a proprietari di prima casa naturalmente. Il finanziamento verrà concesso sulla base di una dichiarazione del direttore dei lavori che attesta tipologia e spesa degli interventi di ristrutturazione. Le domande potranno essere presentate presso gli uffici della ripartizione edilizia abitativa a partire dal 1 luglio di quest'anno. Sicuramente è un grande impulso, non possiamo negarlo. Arriva purtroppo in un momento, cioè alla metà di giugno oramai, nella quale poi le famiglie probabilmente aspetteranno settembre-ottobre per partire con i lavori. Il rischio è poi però che nel periodo autunnale non tutti poi decidano di passare in autunno con la casa in ristrutturazione, per cui probabilmente c'è una parte di residuo che andrà nel 2015. Peccato, abbiamo aspettato molto, però sicuramente una buona linfa di aiuto per quanto riguarda un settore che continua ad essere in crisi e continua ad avere sofferenza.